Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a giocare la Random Auto Challenge. E sarebbe stato tutto facilissimo se avessi potuto mettere questi 5 preset in ordine casuale, però non so come si faccia o perlomeno non si può fare. Infatti dopo ci verrà in aiuto serena che senza che io guardi andrà a scegliere una delle 5 rarità, io ovviamente starò con gli occhi coperti senza vedere, e una volta che atterro ed entro in una macchina, in una Lamborghini in questo caso, andrò a scoprire quale rarità delle armi potrò andare ad utilizzare, perché sì, una volta che sceglie una rarità io posso utilizzare solo quella. Prima di continuare con il video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzoli, è davvero importantissimo per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo. Grazie proprio di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi appunto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, per non perdervi tutti i prossimi video. Lasciate un bel mi piace per supportare questa tipologia di challenge e consigliatemi le altre da fare sotto nei commenti. Adesso ho dato il mouse a Serena, amore dammi... E niente, mi sta trollando. Ammettiti il microfono, perdonami, scusami eh. Tu stavo a fare solo... Mi stavo a trollare. Allora, scegliene uno e poi vai direttamente in home, così io non posso vedere, ok? 3, 2, 1, vai. Ok. Sta in caricamento, aspetta. Ok. Ok. Sei in home? Sì, sono con la schifo. Ok, hai scelto uno dei cinque preselezionati? Sì. Ok, dammi il mouse, perfetto, grazie. Iniziamo in solo versus trio, però direi in no build, ragazzi. Che oggi già la vedo bella difficile se ci dovesse capitare qualche rarità molto alta e quindi non troviamo manco le armi. E poi, mano a mano, se non riusciamo a vincere, andiamo in duo, poi in singolo e così via. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora, raga, di solito le Whiplash, prima le ho chiamate tutte Lamborghini, ma in realtà è la macchina, quella sportiva di Fortnite, quella classica, si chiama Whiplash. Ce ne sono parecchie qui a Riviera. A me ne basta una, cioè io devo entrare in una per capire la rarità che posso utilizzare. Ora, vediamo Serena cosa ha scelto per noi. Io, ovviamente, appunto, non so nulla. Allora, due team, raga, perché mi segna più di tre deltaplani. Ho visto, ho visto anche gente già atterrare. A mezza, una ne è spawnata, raga. Una, vediamo un po'. Cosa ha scelto per noi? Non me la carica. Blu, blu, giusto, amore? Era corretto, blu, fammi cenno. Sì. Ok, era blu, perfetto. Allora, non è buggato. Io, però... Uh, subito ho trovato una. La pistolina questa qui, quella che si aggancia. Perfetto. Perfetto fino a un certo punto, perché io questa non la so usare, però almeno è un'arma con cui poter sparare. Eh? Almeno quella. A mezza è incredibile, raga. La prima arma che avevo trovato è stata subito blu. Perfetto. Allora... Madre mia, raga. Madre mia, raga. Ma va spaccato questo. Secondo me poi ha tipo abbassato la guardia. Sabe, l'ho spaccato, si è messo a caricare le armi e tanti cari saluti. Non aveva, purtroppo, armi blu per me. E qua aveva già lootato lui, quindi forse è anche inutile che io vada a controllare. Il problema, ragazzi, è che essendo in solo versus trio, con questa pistolina, che me tocca agganciare, me tocca fare, me tocca cos'ha, insomma, diventa un po' complicato. Ok? E vabbè, ho capito. Mi sta a piangere, dai, mi sta a piangere, dai, mi sta a piangere, dai, mi sta a piangere. Mi vedo niente, eh? Mi vedo niente, per carità. Però, insomma, mi sta a piangere. Allora, io sento che stanno fightando, eh? Forse dovrei un attimino inserirmi per provare a rompere le scatole. Però, no, raga, non ce posso credere. Ok? Però, raga, c'è, raga, vedete? Abbiamo trovato un'altra. Abbiamo trovato un'altra, ragazzi, un'altra. Però, dai, almeno abbiamo una mitraglietta. Io direi che possiamo andare. Ci abbiamo solo armi che hanno colpi piccoli, quindi ho paura di, tipo, usarli tutti e non riuscire a killare nessuno. Però proviamoci. Perché altro, raga, se riuscissi a trovare un pump, non sarei messo neanche male, eh? Cioè, starei già messo abbastanza bene, se vogliamo. Allora, questo, raga, stava palesemente qua sotto. No, sta sopra. Sopra? Oh, mio Dio. Dove, dove sei? Dove sei, amico? E' amico tuo. L'abbiamo trovato. Ok, mamma mia. Questo è l'altro che c'era la corona? Mi sa l'altro che c'era la corona? Questi c'erano tutti la corona, sì, erano tutti i compagnucci. Vi dirò. Per ora mi tengo due mitragliette e, cioè, raga, le pistolina che si aggancia. Una me basta e me avanza pure, detto proprio sinceramente. Ma se ne passi, ma questo potrebbe essere il boss, eh? Che, infatti, io aprirei anche abbastanza volentieri il bunker. Però, regà, io ho paura che c'è il terzo di questo team che si viene a prendere le card e poi li rianima tutti. Vabbè, dai, proviamoci ad andare a fare il bot qua, il boss. Oh, comunque le due mitragliette le abbiamo trovate top, eh? Con il laser. Buone, buone. Equipaggiate proprio. Ah, eccolo. Ecco, ecco, ecco gli altri passi. No, raga, ne devo... Ne devo per forza approfittare. Eh no, questo è il bot. Allora, un attimo. Non ho ricaricato. Guardate, è aggressivo. Guardate, è stato aggressivo. Don Pablito. Si è messo qui alla finestra e mi stava aspettando. Ma sul serio? Uh, il pump mi ha portato Don Pablito. Grazie. Cioè, allora, io mi sono immaginato la scena. Don Pablito ha preso il pump. Ha detto, oddio, ma questo è blu. Io lo possiamo portare a Gigi? E allora si è affacciato alla finestra. E mi stava chiamando, raga. Cioè, lui in realtà non si era affacciato alla finestra per spararmi, cucciolotto. Lui si era affacciato alla finestra per portarmi l'arma. Scusami, Don Pablito, non avevo capito e ti ho sparato. Tra questi cattivissimi con la corona e mi hanno pusciato, ma... Insomma. Da rivedere. Strategie da rivedere. Oh, raga, ma pure il pump. Modificato proprio alla perfezione. Ma incredibile. Cioè, la perfezione, insomma, ma come piace a me. Ci sta. Allora, vediamo un po'. Più che altro per le cure volevo aprire qui, eh. Però mi sa che mi tocca andare, raga. Mi sa che mi tocca andare come al solito. Alla macchinetta per comprare le cose. No, raga, il cecchino. Quanto mi servirebbe il cecchino, detto sinceramente. Mamma mia, col cecchino svolterei. Mi tocca andare a lutare nelle... Ah, raga, sapendo che c'avevo... Che dovevo prendere le armi blu, andavo a lutare. O da Jonesy. Beh, in realtà ci potremmo ancora andare, eh. Comunque in una di... Ah, giusto. Ci sta il... Le valigette. Mi sa pure che qua ci stanno le valigette? O no? No, mi sa di no. Qua forse no. Eh, raga, a Riviera non ci atterro così spesso. Dovrei andare a qualche parte dove ci sono le valigette. Vabbè, dai, proviamo ad andare lì da Jonesy. Perché con le valigette le armi blu prolifano proprio. Proliferano. Che cavolo ho detto? Eh sì, Serena ride pure, mannaggia. Mi sa pure in giro, ho capito. Vabbè. Comunque, detto questo, andiamo lì da Jonesy. Ah, non ho comprato gli shield alla macchinetta, regà. Vabbè, me ne farò una ragione. Qui c'è che conviene girare qua anche se era controintuitivo. Acceleriamo perché se no arriviamo dopo domani. Ah, qui a piazza ovviamente stanno fightando. Immaginavo. Ah, comunque, raga, ovviamente io non è che sono costretto... Cioè, non è che sono costretto... Non è che sono costretto a tenere la Lamborghini, eh. Cioè, raga, io posso fare come mi pare. Ok. Mamma mia, ragazzi. I fight in no build un po' mi lasciano perplesso. Allora, vi dirò. Io lo shieldone me lo faccio. Nel dubbio me lo faccio. Qua la situazione non mi piace, anche perché hanno appena ributtato. E questi, secondo me, si vanno pure a farmo l'antenna. Non sarebbe stato male farmi l'antenna e poi andare da Jonesy. Sarebbe stato perfetto. Però, a parte risparano di nuovo di qua. Oh, no, no, ecco, ecco, ecco il cecchino. Posso anche non andare da Jonesy, in realtà. Posso anche non andare da Jonesy a questo punto, vi devo dire. Oddio, però non è proprio il mirino che mi piace. Potrei provare ad andarci lo stesso e vedere se trovo qualcosa di meglio. Certo, e mo' che levo, regà, per far spazio se dovessi trovare tipo il rampino? Che me levo? Cecchino non lo levo assolutamente. Il pump non lo posso levare. La mitraglietta almeno serve per sparare un po' delle medie distanze. Però la pistolina ad aggancio, se non trovo l'assalto, quasi sono obbligato a tenerla. Vabbè, intanto non ci facciamo problemi e andiamo da Jonesy. Tanto non è detto che io trovi il rampino, quindi... Eh, raga, l'hanno lutate. L'hanno lutate. Eh, la mitraglietta blu così, ma non mi interessa. Il pump preferisco quest'altro. Il cecco con il mirino che voglio io. Perfetto, qui giusto per i colpi. Questo blu... Ecco, ecco. Ok, adesso si fa più interessante la situazione. Perché posso fare così per adesso, per adesso. Poi in realtà posso anche togliere la mitraglietta e tenere il rampino, se lo trovo. Perché comunque quest'assalto, regà, può fare anche tranquillamente da... Eh, mazza, oh. Ma veramente l'ho trovato? Mi dispiace, perché stavo trovando veramente delle buone armi. Tipo, cioè, quest'assalto come... Come l'hanno... Beh, no, in realtà anche l'assalto non è male. Si potrebbe fare di meglio, ma non è male. Oggi, incredibile, stiamo trovando le armi buone e anche modificate bene. Cioè, assurdo. Palesemente il tocco di Serena, ragazzi. Palesemente. Il problema, però, è non buttare... St'occasione. Dai, però voglio fare una buona partita. Cioè, non camperiamo. Cioè, in realtà non è che stessi camperando, però... Stanno a fare... No, raga. Questo miss non lo dovevo fare. Ok. Madonna che miss. A loro stanno continuando a fare qualcuno a terra. Poverino, raga, è morto. Non so se l'avete capito. Mi sa che i bro non l'hanno capito e questo l'ho ucciso. Oh, 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 oh. Qualcuno da lontano. No, lui. Niente, raga, oggi non ce la faccio. Oggi col cecchino non ce prendo. Ho riposto troppe speranze nel cecchino. E mo' sto ripagando tutto quello che... Che non ho pagato in questi giorni. Se avete visto gli ultimi video sapete di che cosa sto parlando. Allora, teoricamente io ad oggi... Cioè, ad oggi. Anzi, ad ora sto con il miglior loot che io... A parte le cure che magari... Oddio, adesso con i pesci non sto messo male. Però diciamo che l'unica cosa che potrebbe migliorare la mia situazione attualmente sarebbe il fatto di entrare in qualche bunker e modificare le armi un po' come voglio io, aggiungendo altre modifiche. Perché se no, per il resto, ragazzi, è proprio tutto perfetto. Quindi cerchiamo di sfruttare il momento. Tra l'altro, raga, ieri... Ogni tanto mi stai scrivendo... No, Gigi, ma anche se hai cambiato i tasti, non ti preoccupare, gioca in build. Ieri abbiamo fatto l'atterro per un'ora, ovviamente, in build. E andatelo a vedere perché abbiamo raggiunto campione. Ve lo spoiler se non avete visto il video, ma fidatevi. Andatelo a vedere perché è stato un gran bel gameplay. Allora, raga, stanno sparando tipo di brutto qui. Si stanno col bot. Ma perché sta andando di moda questa skin, raga? L'altro giorno... Vi ricordate nel video di... Che era? Il video dell'altro... Quando era? Nel video dell'altro giorno... Due persone avevano dei medaglioni diversi, di team diversi, ed erano due con questa skin. No, non mi chiedete perché. È vero che era una delle skin gratis, se non ricordo male, di qualche Natale fa. Però, cioè, neanche a Natale se ne vedono così tante. Comunque, Nisha non se la son fatta. Neanche Peter. Le altre sì. Quasi. Quelle a nord-est di boss se li son fatti. A sud-ovest... Però vi posso dire una cosa? A me non me ne frega niente di uccidere Nisha. Sì, potrei aprire il bunker, effettivamente modificare le armi. Quello è vero, però, eh. Però a che pro mettermi adesso ad uccidere il boss che sto in solo versus trio? Cioè, se arriva un team, raga, mi bomba. Andiamocelo a cercare noi un team che mi bomba. Raga! Cioè, va bene. Anaggia a me. Cioè, il bro, raga, aveva evitato i miei colpi, eh. Cioè, si era mosso per evitare i miei colpi, ma mi sa che pure lui se stava a caricare l'arma. Cioè, pure lui. Io non me la stavo caricando, in realtà. Però va bene. Madonna, raga, che precisione con questo assalto senza mirare. E non c'è neanche il laser. Ma come siamo già a 14? Vabbè che c'ho già 12 kill, eh, però... Vabbè, ho capito. Facciamoci Nisha. Andiamo un attino dalla signorina Nisha. E proviamo dunque poi a modificare le armi. Mi dispiace poi per l'assalto, eh. Perché l'assalto di Nisha, ragazzi, è una goduria a usarlo. Però, che devi fa? Non lo possiamo usare, poi. No, no, raga, non lo devo lisciare. Col cieco non posso sprecare sti colpi. Ok. Ma, raga, ho visto dei colpi qui a terra. Come se qualcuno ci fosse già morto contro Nisha. Invece non l'avevano proprio neanche indebolita. Oddio, lì ci sarebbero dei bunkateli molto interessanti. Ok. Quelli pure tanto fanno danno. Ok. Ok. Beh, oddio. Comunque pure questo assalto così mena parecchio, eh. Anche questo assalto così mena parecchio. Ok. Andiamo, signori. Allora, raga. Al cecchino... No, vabbè. Allora. Facciamo questo. In realtà ci sta che me lo ricarico più veloce. Tanto io c'ho il tick di ricaricarlo ogni volta. Lo so, in molti momenti dicono. Gigi, ma che glielo aumenti a fare il caricatore se tanto poi lo ricarichi ogni volta. E ci avete ragione. Ci avete ragione. No, al mirino non glielo metto. Posso anche tenerlo con questo mirino, questo assalto. Non è un problema. Tanto da lontano c'ho il cecchino. Però lo preferisco con questo. E col freno di bocca. Ok. Però io comunque faccio così per i colpi. Anche se, oddio, sono praticamente full, eh. Però non si butta via niente. Oh, raga. Ma avrei trovato due ceste leggendarie qui. Diciamo che se avessi fatto la challenge con le armi epiche o leggendari non sarebbe stato male per niente. Uh, qualcuno con la corona è morto. Attenzione. Un altro paio di team tra i yardini. Vediamo un po'. Andiamolo a scoprire. Anche perché devo andare in safe. Eh, peccato che non ho preso le tempeste, ragazzi. Perché aver avuto l'anticipo della tempesta non è male. Negli ultimi video la sto apprendendo spesso proprio per anticipare i movimenti degli avversari e prendermi i punti migliori. In solo versus duo o trio, come in questo caso, è molto più importante rispetto al solito. Eh, raga. Qua, qua, raga, c'è il team tra i yardino. Palesemente. C'hanno 70 medaglioni. Quindi i tre medaglioni ce l'ha tutto un team adesso, praticamente. Perché due separati, ma... Eh, infatti. Ok, tre medaglioni e un team ce l'hanno. Eh, vabbè. Raga, ma sapete, mi sa quelli con i medaglioni... Quelli con i medaglioni mi sa stanno sul treno? Stanno sul treno quelli con il medaglione? Oh, no? No, 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 no. Ok, sono rimasto... Oh, oh, oh. No, raga, mi sa... Qua, quanti sono? Ah, stanno fightando, ok. Allora, aspettate. Se stanno fightando, però, potrebbe essere ghiotta la situazione, eh. Però il problema è che devo capire qual è il team tra i yardino. E rompere le scatole a loro. E magari agli altri no. Poi magari sono tutti i team tra i yardini, eh. Ecco, quello palesemente. Stanno lì quei buncati, li stanno palesemente lì a tra i yardare. Però, raga, quelli con i medaglioni... No, stanno camperando qua dentro. Ve lo dico io. Quelli con i medaglioni stanno camperando qua dentro. Oh, mio Dio. Però c'è quello là che sta a 2.000, eh. Quello sta a 2.000, è uno di quelli con la corona. Ok, lo sta andando a... Ah, ce n'ha uno. Guarda se si riferma un attimo. Eh, no, raga, non si riferma. Questo, raga, se si ferma a lui è top. Perché lui, secondo me, è il tra i yardino del team. Cioè, l'ho visto prima. Ha superato il provino. Ogni tanto, raga, alcuni di voi mi scrivono nei commenti. Gigi, posso fare il provino? Ma io non ho un team, raga. Cioè, non so perché me lo state chiedendo. Ma negli ultimi video molti più rispetto al solito. Ma non ho capito perché. Ok, no, raga, era headshot, dai. Cioè, paresemente headshot. Oh, si è girato. No, eh, pure l'altro. Eh, ragazzi. Allora, diciamo che non ho fatto una scelta molto felice. Ma quel Peter Griffin era fermo. Pensavo di one-shotarlo. Eh, invece ho trollato. Il problema, ragazzi, è che quelli col medaglione non sono loro, mi sa, eh. Ce l'avevo dietro da qualche parte che camperavano. Io anche per quello non sono intervenuto perché non ho capito bene la posizione di quelli col medaglione. E continuo a non capirla. Oppure sono loro, ma non me la sta assegnando con proprio estrema precisione. Se proprio dobbiamo dirla tutta. Il problema, ragazzi, è che se arrivo in endgame e sono da solo contro questa trio, di sicuro non me la porto a casa. Perché questi se la giocano. A parte il Peter Griffin che l'ho visto un po' spaisato. Oh, ecco lì. Eh, no, sono loro. Sono loro, allora. Sono loro. Sono loro che medaglioni. Allora mi disegnava un po' da una parte... Eh, no, raga, non mi hanno visto, penso. Credo mi si veda con il bagliore dal nel cespuglio. Oppure il bagliore nel cespuglio e il cecchino non si vede. 110. A quello bravo, ma tanto sono coperti e si refullano. E ci hanno 78 medaglioni. Niente. Contro di loro non mi entrano headshot. Contro di loro, zero headshot. C'è. Ok, raga, ho terrato quello top del team. No, raga. L'ho aiutati. Ho aiutato un altro team. No, raga, ho aiutato un altro team. Eccolo. No, raga. Questo era fondamentale killar. Allora, aspettate. Raga, a me non mi stanno entrando le head. Ma sono da solo... Sì, sono da solo contro tre. Però uno sta a terra. Sono uno contro uno, in realtà. Uno contro uno. Loro ce la... Ce la sono tutti a terra. Let's go, ragazzi. Let's go. Ma meno male che ho visto quello a terra accanto a me, raga. Meno male che ho visto quello a terra accanto a me. Così, dopo che ho atterrato a Tartaruga Ninja, ho capito che eravamo uno contro uno. Perché sennò me la sarei giocata diversamente. E questo, secondo me, rebuttava... Cioè, rebuttava. Rianimava pure a Tartaruga Ninja, perché ovviamente non l'avrei mai pushati. Meno male, ragazzi. Sta cosa mi ha salvato vedendo quello lì a terra. GG. E comunque, ragazzi, il cecchino ci risolve sempre i game. Anche se non mi sono entrati headshot, mi sa, oggi, eh. Solo body. Però, comunque, anche i colpi al corpo hanno fatto la differenza. Quindi, che sia in ranked o che sia in pubblica, raga, senza cecchino faccio schifo. Faccio delle partite bruttissime. Col cecchino risolviamo qualsiasi situazione. GG. Detto questo, ragazzi, mi raccomando. Vi ricordo, il codice creatore GGY, non ti tutto grande. Tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite. Fondamentale per supportarmi. Ogni due settimane il codice SCADE lo dovete reinserire. Lasciatemi il mi piace per supportare questa tipologia di challenge. Consigliatemene altre da fare sotto nei commenti. Iscrivetevi, appunto, per non perdere tutti i prossimi contenuti. Per me è tutto. Ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuali! Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi!